Noi siamo dei pesci in spada, lo dico con il cuore, non me lo chiedete più, siamo pesci in spada e infilzeremo anche qualche squaletto della politica. 4 miliardi di euro di fondi basse perché? Perché questi fondi basse potevano essere finalmente gestiti dal primo governo autonomista della storia di questa terra e quindi non sarebbero stati gestiti dalle solite logiche che vedono il grosso gruppo del nord che dà un modello di sviluppo economico alla Sicilia, poi la Sicilia qui dentro che organizza i soldi peraccianti del malaffare che realizzano quello che hanno imposto dal nord e qui nel nord non sono mafiosi, troppo in Sicilia sono mafiosi. E poi i siciliani pagano per 20-30 anni queste scelte. No, ora non si farà più così purtroppo, mi dispiace per loro. Noi vogliamo innanzitutto la verità di chi ha ucciso Giovanni Falcone e Paolo Borsettino, noi vogliamo la verità di chi ha compiuto queste stragi, noi vogliamo la verità che è stata negata a una generazione che oggi non sa chi ha ucciso non materialmente, quello più o meno l'abbiamo saputo, chi ha mandato quelle persone a uccidere i nostri modelli. Quelli sono i nostri modelli, non ce li toglieranno nessuno, lo dico ora, lo dico chiaro. Nessuno ci toglierà quei modelli, né Giovanni Falcone né Paolo Borsettino. Se una lotta alla mafia è stata fatta è quella reale e quella vera di questi anni di governo presiuto da mio padre che ha tolto miliardi di lucro alle famiglie maviose, non l'antimafia delle chiacchiere, non l'antimafia dei salotti, non l'antimafia della vergogna che non ha portato nulla in Sicilia.